Una bella scommessa la vostra, proporre uno spettacolo di assoluto livello come quello del Notre Dame a Capodanno a Piazza Duomo. Avete infatti immaginato una sorta di rivisitazione, tempi anche più ridotti, ce lo illustra nel dettaglio. Una bella scommessa ma non ci preoccupo assolutamente. Abbiamo creato questo spettacolo usando il Duomo come la cattedrale di Notre Dame, quindi uno spettacolo interattivo affidato alla compagnia di Carmelo Impalà che è uno dei nostri affiliati al centro artistico del Mediterraneo e lo realizzeremo anche con un gioco di luce estremamente particolare. Poi faremo parlare e suonare alcuni artisti locali tra i più bravi che abbiamo nel settore considerando che il Capodanno fatto con i locali non è qualcosa in meno ma come dico sempre è qualcosa in più perché artisticamente siamo autosufficienti, facciamo delle cose che possiamo esportare in tutto il mondo per cui uno spettacolo in più, non uno spettacolo in meno, far divertire durante la notte di Capodanno però nello stesso tempo fare anche un po' di cultura, fare anche un po' riflettere con degli spettacoli che oltre a divertire riescono anche a piacere e a dare qualche immagine artisticamente valida.